L'uomo video su Among Us Sì, e lasciate like se pensate che Crocco sia un arano No, basta con sta storia Allora, lasciate like se pensate che Elox sia un cocomero E me? Io amo i cocomeri Cocomero e arancia best friends Ehi, Stormo! Io sono Spreezer Io sono Elox Io sono Crocco Io sono Zoe E io Violet E oggi giocheremo ad Among Us, ma con il lie detector Quindi la macchina della verità Appunto, basta che è proprio un pulsante che si accende la macchina della verità E vedremo se effettivamente le persone stanno dicendo la verità o meno Non dirò mai bugie perché sono onesto Va bene, noi iniziamo, via! Andiamo Secondo me è finta, non esistono le macchine della verità Non ha mai detto le bugie Ah, mamma mia, oggi c'ho proprio voglia di farmi una bella passeggiata nei boschi Voglio dire, nella stranagola Andiamo a lavorare Tu devi lavorare e pagare le tasse, no? Lavorare e pagare le tasse Le tasse Le tasse Le tasse Allora Le tasse Ok, io ho già fatto la mia prima, quella lunga, dell'immondizia Ah! Io faccio questo qua degli scuri La 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 Oh, sta carta Porche Ah! Sole! Di nuovo! Sole! Di nuovo! Ha detto porca puzzola, l'ho sentita Esatto, esatto Ok, va bene No, in realtà non ho detto nulla Eh, sì, sì Non ho detto nulla Ho detto porche besta Va bene Non riesco a fare sta carta Ah, ce l'ho fatta Dai, è facile Ah, la 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 Ciao, Zoe Cosa canticchi? Ciao Dove sei? Oh, ciao Non è vero Da quando? È vero Eh, Zoe, ma sai che ti stanno bene le corna? Grazie No, sto canticchiando come le persone cattive Esatto, sì, sei una persona cattiva Sei una persona cattiva Non è vero Sei una persona cattiva, Violet Perché? Le persone sono andate le luci Ah, luci Mi pussa Eh, fatelo accendere Eh, eh Che è successo? Che è successo? Oddio Attiviamo la macchina della verità Ma è morto e che è, Lox? Attiviamo Attiviamo la macchina della verità Adesso Ok Allora Vediamo un po' Vediamo un po' Allora Parlo io a nome di Cruco Ok, c'è L'ho trovata Cruco, però, eh Allora Cruco, dimmi un po' Dimmi Tu? Ok, appena trovato Il tizio Nella Eh, cosa Elettrica Sei stato tu ad ucciderlo? No Io stavo in Come si chiama? Upper Engine In alta sinistra Aspetta, aspetta, aspetta Vediamo, vediamo, vediamo Vediamo se Oh, ok Ah, attenzione Ragione È vero Wow Ok, bene, bene, bene Tu invece, Violet Dimmi un po' Io No, no, no Io vi ho visto Ho visto a te E a cosa In elettrico Lui vi hai visto anche tu E io ero a Come si chiama quella stanzina? Dove c'è la carta Dove c'è la carta? Eh, la carta Admin Admin, ero lì Ah, ok E quindi E vediamo Vediamo la macchina della verità Però, aspetta un attimo Magari sta ancora Ah, è falso È falso È falso Sì Non è vero Quindi so con chi potrà Lo sappiamo, Violet Tu stai mentendo, Violet Ve lo giuro Non è vero So io cosa fare Hai ucciso Elok Senzoe? No Perché sono stato andato a fare le tasche Insieme a Violet Oh, 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 oh Vabbè Nel senso Nel senso Magari Ha detto magari falso Perché magari dice Che non sono andato a fare le tasche con Violet Perché effettivamente Non sono andato a fare le tasche con Violet E invece Violet Ha cesso te All'Ox e Zoe? No Allora funziona Sì Allora funziona No, mi sa che è rotta Questa macchina della verità Ha detto che è Violet Ragazzi Io credo Perché sta scrivendo su? Comunque Sì, è Violet Hai detto il 100-100 Sì La macchina dice che è lei Quindi Sì esatto è Violet No, io ho detto che l'ho ucciso E ho detto che era vero Quindi non li ho uccisi Ma come? Ah, non avevi detto che l'ha uccisi? Io credo che l'avevo uccisi Io ho detto di no E la macchina Ho detto Ma siete scemi? Ho votato io ormai Io per superzza comunque Sì appunto Cioè votiamo Votiamo dai Ma Mi ha votato a me Sì perché ho paura di te La macchina della verità Ha fatto false Ma ho fatto Ma è vero che facevo le tasche A fianco di Navigation Non è vero Stai mettendo Siamo morti No perché mi devi stare secondo? Non sono io No ragazzi non sono io Infatti no Secondo me è Violet Ha detto che aveva ucciso E la macchina Gli ha dato ragione Non sono io Ah cioè la macchina della verità Mi ha dato ragione Voglio dire Cioè nel senso Mi ha dato torto Però comunque magari Forse è rotta in quel caso Magari è eccezionale Non so Violet se sei te Non uccidere me Ma ammazza Sbrizer Se non siete Sbrizer Non sono io raga Non sono nemmeno io La macchina mi ha dato ragione Beh vi conviene Non fare le tasche Ma andare a fare allora La cosa Se credete che effettivamente Sia io no? Perché state qua? State aspettando di uccidere qualcuno? Eh? No io ripeto Che è Violet Secondo me Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo È proprio uno stupido Perché praticamente Potevi buttare fuori Violet e vincevi subito Invece è votato Zio Crucco No lo so Era per farlo Durare di più Il gioco Sì sì Dicono tutti così È che non hai Intelligenza Come ti permetti Io ho Intelligenza Donna E perché sono blu adesso Aspettate Ma OI Ha cambiato colore Oddio Cavolo Per una volta ho sbagliato Vai Violet manchi tu Sta arrivando Sta arrivando Ci sono Ho sbagliato Andiamo Oh mio dio Comunque raga Veramente Funziona davvero La macchina della verità Avete visto È incredibile questa cosa Ma secondo me è un po' stupida Non l'ho vista molto funzionale Anche io Ma infatti è impossibile Non esiste una roba del genere Che funzioni per davvero Sì Cioè è strana sta cosa Veramente Ecco È tutto figlio Perché stai Ci trovato nelle macchine della verità No Beh sai Quando stai giocando da casa E inizi a parlare al microfono Questa macchina della verità Anche se parli al microfono Senza magari dei recettori neurali Esce a capire che tu Stai dicendo La verità o la falsità È un po' strano Non credi Violet Esatto Oddio Madonna santa Oddio Accendo la macchina della verità Basta uccidermi L'ho trovato proprio da dove sei arrivato tu Sbri Eh Cosa No 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 Aspetta accendo la macchina della verità Perché qua Ma se me non mi fate Faccio vedere Tu dovevi Prima di incontrarmi Noi ci siamo incontrate di frontiera Lì sotto Allora Allora Io Io sono andato in electrical Per andare a fare le mie task Ok Tutti quanti Io mi ricordo però Che tu Violet Intanto dove l'hai trovato Era Come si chiama quella parte Proprio a destra a destra Dove si va giù Allora Scinde Ok bene Un po' più su Io ho visto Violet Io ho visto Violet Che giusto giusto Prima di me Era entrata in Navigation Ok proprio era andata verso la parte destra Ma io non ero in navigation Però ero lì sotto Eh Però allora Se lì già lì sotto Elox era con te Quindi sei stata tua Ad uccidere Elox Violet Ma io l'ho trovata Vediamo cosa dice la macchina della verità Vediamo Vediamo un po' È stata Violet È stata Violet Ad uccidere Elox Rispondi Violet Perché io non ho ucciso Elox Si Giusto Quindi la macchina dice la verità No 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 Dice Dice che tu stai dicendo la falsità Di quello che stai dicendo No no Non è vero Volete credere davvero a una macchina E non alla vostra amica Violet Esatto Sì Votiamo Violet Votiamo Violet È stata Violet È stata Violet Pure perché prima Pure perché prima stava con me Elox in navigation Poi lui è uscito ed è morto Quindi Cosa? E allora era uno di voi due Probabilmente Zoe Non ho fatto nulla io Forse Zoe Sì sì No Non ho fatto Non ho fatto Non sapevo Oh mio Dio funziona Non male che ero io Funziona Funziona la macchina della verità Magnifico L'ho vinto Ma questa macchina Mi farà perdere il gioco Sì Ma la finiamo di uccidermi Eh superi Dai quando sarai L'impostore Non morirai Oddio che figata Oddio che figata Mi rendicherò Mamma mia E quindi ci sarei morto per primo Quando non morirei per primo Che figata Ma questa cosa farà brividire comunque Ok Allora Io vado a farmi le mie tasche Anche io Devo seguire uno di voi Adesso non mi fido No no io ho paura No Chi mi uccide è una cattiva persona Dai No aspetta Eh io Mi sto facendo Re i miei taschi Normalmente Come al solito La 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 Non ce l'ho lontanissima Le task Ma perché Ciao Zoe Io ci rivevo Di sinistra Adesso devo andare Tutti a destra Qualcuno mi viene a vedere Io che faccio Le cose rispettevoli Bella Cosa stai facendo Qua davanti Cosa vuoi Stavo facendo i cavi Ok va bene Ti devo credere Dovevo azionare La macchina della verità Azionare la macchina della verità Azionare la macchina della verità No no Deve azionare la macchina della verità Basta Allora No no Sto facendo Il Il gioco più Ansiceno al mondo In questo momento Io ho paura di incontrarvi È orribile Dai sbrigati 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 Sì Vito Qualcuno viene con me No nessuno ti vuole Oh mio dio Cosa è successo Elok Dove l'hai trovato L'ho trovato in Atmin In Atmin Allora Io posso dirti Con certezza Che Zoe Non è stata Perché Aspetta Siano la macchina della verità Allora Io posso dirti Con certezza Che Zoe Non è stata Perché Era andato a fare La card E lei ha fatto la card Proprio si sentì di suono Esatto Mi ha staccato le orecchie Io ero in navigation Proprio adesso C'è qualcuno Che possa Descolonare La macchina della verità Io avevo visto Prima Zio Crucco Andare verso Elettrica Tipo Non so Verso lì E poi io Stavo andando in navigation Non ho visto nessuno Secondo me è una falsità Perché in elettrica C'ero io No C'ero io E Sbri Sbri mi ha visto Uscire da elettrica No no Questo è vero L'ho visto uscire da elettrica Aspetta mi ricordate Dove era il corpo In Admin In Admin Allora sarò andato verso Admin Perché l'ho visto al centro Non è che magari forse Elox ha fatto Un auto Self report Un self report Eh sì Io penso di sì Perché io l'avevo detto Guarda la macchina della verità Un attimo Io avevo detto Che se non moriva Era lui Quindi Io lo potrei Fatti io una domanda Dai Dai testiamo Elox È l'impostore No oddio No troppo Elox Ha uccid Era Mannaggia a me Ha ucciso Gruco No no Non devo fargli la domanda Io devo fare la domanda Ad Elox Elox ha ucciso tizio Eh Gruco Sì Come Ok Come si Vedi Oh Oh mio dio Aspetta Allora Allora non è stato lui Oh mio dio Ho la macchina dalla mia parte Ok allora Allora non è stato Elox Adesso non mi interessa Io credo a me stessa Tu eri in navigation Violet Sì Allora sei stata No ad uccidere Gruco Se l'hai trovata in navigation Ma l'era L'abbiamo trovata In admin Ah in admin Ma lei non era in navigation C'ero io in navigation Non è vero Prima hai detto Che stavi uscendo da electrical È vero Prima di electrical E stavo andando E dove andando In navigation Che avevo le Dove sei stato tu ad uccidere Gruco In admin No Perché l'admin Ci sono stata solo all'inizio Tu sei sicura Di quello che stai dicendo Sì Io non ti credo Vediamo Vediamo Joy hai ucciso tu Gruco Ok Dice che ha ragione Nel senso che Quindi non l'ha ucciso Quindi non è stata Joy Che caccia è stata E allora lei che l'ha ucciso Io non l'ho ucciso raga Mi giuro Io ho votato Elox Perché secondo me Io ho votato Joy Anch'io ho votato Joy Io ho votato Ma come Perché mi dà fastidio Il fatto che sembra Così Cosa Vabbè avete fatto un errore Sì sì Va bene Certo No Cavoli vostri Cacchio Mio Dio ma è strano Per come si è comportata La macchina di realità In questo In questo game Porca miseria Lo schifo Sapete come mai Perché Cavolo ho capito Perché non mi avete fatto La domanda Ma giù stavo a chiedervi Se l'ho fatta io No Non puoi prenderlo No Aiuto Ma li bemo tutti Elox Siamo crepati Elox è tornare a andare lì Elox E non puoi stare dietro No 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 Dove stai oggi Mamma Elox Elox Ederemo Oddio no Cavolo Cavolo Ma gli abbiamo fatto La domanda giusta No perché Voi mi avete detto Eri in navigation Io ho usato Una vente Ed ero davvero lì Porca miseria Ti credo Maledetti Guardiamo il lato positivo Non sono morto Per primo Bene In effetti Questo è il ragione Sciapolette Io pensavo Oh mio Dio Oh mio Dio Ragazzi Veramente È stato un episodio bellissimo Questo qua Con la macchina della verità Ditemi se ne vorrete altri Con i friends E noi vi salutiamo Ciao 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 Oh mio Dio